Gentili telespettatori, bentornati a Sportivamente Flash. Terminano le stagioni della Serie D Girona F, dell'eccellenza e della promozione. Vediamo subito il servizio realizzato dalla redazione di Campobasso sul pareggio tra il Campobasso Football Club e il Calcio Termoli 1920 per 1-1. Il Campobasso Football Club a stelle e strisce saluta definitivamente la Serie D contro il Termoli in un Molinari Avico Stadium, bello come non lo si vedeva da anni. Circa 8.000 presenze, tutto esaurito per l'attuale capienza consentita. A salutare l'ingresso in capo dei giocatori una splendida coreografia della curva Nord Michele Scorrano. La partita non è tra le più smoveggianti per i lupi contro un Termoli autore di un girone di ritorno da incorniciare. Prima occasione utile per il Campobasso con Di Nardo che prova ad angolare il pallone. Poi l'1-2 Gonzales Pacillo che libera il centrale difensivo del Rosso Blu per il tiro. La conclusione è nuovamente parata. Poi ancora Di Nardo sul lancio lungo, palla che sbatte su Lombardo. Poi tante occasioni, ma nulla di fatto. A sbloccarla è il Termoli. Nel secondo tempo, bello il tiro da Furiaria di Colarelli che insacca. Poi Parisi conquista il rigore dal dischetto Di Nardo che fa esplodere gli 8.000 del Molinari 1-1. Da registrare sul finale anche il palo di Hernandez e il quasi gol di Maldonado su ribattuta dopo il tiro parato di Romero. Il lupo saluta la Serie D. Adesso la pull Scudetto poi inieserà il cammino nei professionisti. Bene, partiamo con la regia, con le schermate del Girone F. Ultima giornata, la giornata è la numero 34. Le gare in campo sono state le seguenti. Atletico Juventus Fano, Real Monte Rotondo 5-2. Atletico Ascoli, United Riccione 4-2. Campobas, Football Club, Calcio Termoli 1-1. Football Club Matese, Chieti 0-0. L'Aquila, Notaresco 1-0. Roma City, Football Club, Bastogirardi 4-2. Sonacalcio, Avezzano Calcio 1-2. Tivoli, Calcio, Fossombrone 1-0. Vigo, Senigallia, San Benedetti 6-3-5. La classifica dell'ultima giornata di Serie D. Giron F, Campobasso promosso in Lega Pro a 70 punti. L'Aquila 68, Avezzano Calcio 59, San Benedetti 6-58. Roma City, Football Club 52. Atletico Ascoli 50, Vigo, Senigallia 49. Chieti 48, Notaresco 45, Calcio Termoli 43. Fossombrone 41, Soracalcio 41. Real Monte Rotondo 41. Tivoli Calcio 37. United, Riccione 37. Alma Juventus, Fano 32. Bastogirardi, Retrocesso in Eccellenza 29. Football Club, Matese 26. Il campionato di Eccellenza Monisana, la giornata è la numero 30, è l'ultima. Castel di San Crocepp, Venafro 3-6. Sesto Campano, Polisportiva Fortone 2-1. Atletico Sempitinovallo, Real Guglionesi 2-3. Città di Serna, Boiano per la grande festa di Serna per la promozione in Serie D, 9-2. Criterina, Aurora Alto Casestano 5-1. Anche questo risultato molto particolare. Difesa Grande Termoli, Limpia Gnonesi 1-1. Ripo di Mosani, Campomarino 2-3. Turris, Calcio Virtus, Gioiese 5-1. La classifica, il Città di Serna, San Leo, trionfa in questo campionato, 82 punti e viene promosso in Serie D. Aurora Alto Casestano 72, Real Guglionesi 53, Venafro 52, Calcio Virtus, Gioiese 42. Sesto Campano Calcio 41, Castel di San Crocepp 41, Atletico Sempitinovallo 38, Tutis 36, Polisportiva Fortone 36, Di Polimosei 36, Boiano 32, Criterina 28, Campomarino 27, Olimpia Agnonese 23, Difesa Grande Termoli 23 punti. Passiamo alla promozione. È l'ultima giornata, la giornata numero 30, Polisportiva M Juvenes Forum 2-1, Altilasagnum, Calcio Montenero 0-3, Baranello Real Prata 4-3, Chaminade Trivento 2-4, Locomotive Riccia, Tadico Tore Maggiore 1-1, Morcone Calcio, Bois Vairano 2-3, Rocca Navindola, Polisportiva Fortone 2-1, Spinita e Segna Fraterna 2-3. Diamo uno sguardo alla classifica, Bois Vairano, promozione eccellenza 70 volti, Calcio Montenero 65, Baranello 65, Aesernia Fraterna 65, Trivento 54, Locomotive Riccia 51, Tadico Tore Maggiore 47, Alprada 44, Polisportiva M Juvenes 43, Forum 37, Rocca Navindola 37, Spinita 35, Chaminade 27, Morcone Calcio 25, Polisportiva Calena 22, Altilasagnum meno 1. Chiudiamo con il campionato regionale di prima categoria Girone A, la giornata è la numero 28, ne mancano ancora due, perché il campionato si concluderà la giornata numero 30, Alife Rufe Presenzano a 2-2, Campopasso Calcio, Mirabello Calcio 0-1, Pozziglia, Gala Fidelis 3-1, Tammaro, San Giovanni Ingaldo 4-3, Autax Pietramelara 3-0, Autax Pietramelara, Campione Calcio 3-0, Atletic Mignano, Volturni Calcio 4-1, Domenico Resisto, Gioventù, Macchia Codenese 4-0, ha riposato il Sant'Angelo Limosano. Chiudiamo con la classifica, Guida Lalife promosso in promozione a 66 punti, Rufe Presenzano 60, Domenico Resisto 60, Sant'Angelo Limosano 54. Per continuare con la classifica, la Fidelis 52, Pozziglia 47, Audax Pietramelara 40, Tletic Mignano 38, Mirabello Calcio 31, Campopasso Calcio 29, Carpinone Calcio 29, Tammaro 19, San Giovanni Ingaldo 14, Gioventù, Macchia Codenese 11 punti, Volturni a calcio, chiude la classifica a 9 lunghezze. Bene, gentili telespettatori, vi ringraziamo per averci seguito in questa anteprima sportiva del lunedì, vi diamo appuntamento, come ti conserto, alla nuova puntata di Sportivamente, per venire il prossimo, un saluto a tutti, da Michele Visco.